Tutto è pronto, si va agli ordini dello start. Partiti! Si avviano tutti regolarmente con la mossa centrale di Puck di Premi che prova a andare in vantaggio con Black Canyon al suo esterno e in mezzo alla pista Ross Gold che forza su Puck che è costretto anzitempo a fare la frazione. E allora Puck di Premi contro Ross Gold, i due accelerano anche in maniera sensibile da Black Canyon che li guarda da dietro in posizione privilegiata a precedere a questo punto meccanico con all'esterno Bint Kodiak sulla curva. Puck ha respinto Ross Gold con spesa sensibile e da quantificare quando siamo a 200 dal palo. Dietro i due, Black Canyon e Bint, poi Oberten e meccanico in coda, civetta bla bla bla. Puck di Premi ha respinto Ross Gold, prova e recupero Bint Kodiak in mezzo alla pista, anticipato leggermente da Black Canyon, poi Oberten di rincorso e meccanico. Puck di Premi sotto la pressione naturale ora di Bint Kodiak e Black Canyon che se la giocano con meccanico e Oberten. Black Canyon prova a respingere la minaccia di Bint Kodiak che si fa pressante col passare dei metri, con Bint Kodiak che attacca Black Canyon, poi Oberten a fil di palo. Sono in lotta, Bint Kodiak e Black Canyon, Bint alla fine copre. Black Canyon a fil di palo. Per la femmina di sei anni di Elisabetta Savelli e Filippo Muzzi, il team tutto familiare. Secondo Black Canyon la chance e la fiducia di Federica Tomasini ripagato, anche se con un secondo posto. Terzo corre bene anche Oberten di rincorso, prima o poi la troverà la sua corsa davanti a meccanico. I movimentatori della corsa, come era abbastanza prevedibile visivamente parlato, hanno alzato bandiera bianca. A 200 dal palo, 415 ha tradotto i numeri l'arrivo provvisorio dalla postazione centrale. È tutto. La vittoria di Bint Kodiak. Riccardo Iacopini ieri sera mi ha detto, ma spero di vincerne almeno una domani a San Rossore. E hai un grande onore Riccardo, perché la prima volta che la giubba di Filippo Muzzi vince, ha pochi giorni dalla scomparsa di suo nonno, Nedo, che quindi immagino che a lui sarà dedicata questa vittoria. Raccontaci qualcosa di... Sono molto contento per questa cosa, che mi ha appena detto che non sapevo. È una cavalla un po' particolare. Eh, lo sappiamo. Non si trova bene a passare i cavalli. E insomma, ce l'abbiamo messa tutta. E ce l'avete fatta. Sì. Grazie mille. Bravo Riccardo Iacopini, Bint Kodiak, a festeggiare Lorenzo, Filippo.